Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, oggi come vi avevo promesso in un po' di video fa, ma li sto recuperando tutti, andremo a parlare di un libro che ho letto a novembre, ho finito di leggere a novembre, che è Il figlio del Dio del Tuono di Arto Passilinna. Allora, premessa all'inizio di questo video. I prossimi due libri di questo autore che voglio andare a leggere, a recuperare, che ho in libreria, sono L'anno della lepre, nel 2022 ovviamente, vi stilerò anche una lista di buoni propositi libreschi del 2022, vi farò un video all'inizio di gennaio. Comunque, L'anno della lepre, che è ancora in questa edizione vecchia di Perborea, non le fanno più così. E poi vorrei andare a leggere invece, ve l'avevo già detto, Il mugnaio urlante. Non l'ho ancora iniziato, nessuno dei due, perché sto finendo un po' di letture iniziate che avevo in arretrato prima della laurea. Comunque, oggi andiamo a parlare invece di un libro che ho letto, ovvero Il figlio del Dio del Tuono. Innanzitutto, vi leggo la frase che ci sta dietro, che non è la trama, è una frase presa dal libro, quella per accattivare l'attenzione del lettore, ed è I finnici hanno la testa dura, la cosa è nota in cielo. Allora, innanzitutto, breve trama di questo libro. Allora, di che cosa parla questo libro? Questo libro parla di come gli dèi dei finnici, chiamiamola questa religione pagana, ma poi vi spiego come è ben strutturata la religione all'interno di questo libro, decidono di riportare la vera fede, quindi il fatto di essere venerati dai finnici, sulla terra. Allora, nel momento abbiamo due protagonisti principali. Sam Saronkainen, uomo, un uomo normale che vive in Finlandia, uomo abbastanza senza spina dorsale, che ha un negozio di anticalie ma non conclude mai niente, gli vengono messi i piedi in testa sia dalla sorella che da quella che dovrebbe essere la compagna e questo fantomatico fratello della compagna. E poi abbiamo Rutia, figlio del dio del tuono. Suo padre è Ucco Iliumala, nonché dio di tutti gli dèi. Allora, voi dovete immaginarvi Ucco un po' come Zeus, quindi il dio che tiene sotto controllo i cieli, che scaglia fulmini e infatti Rutia arriva sulla terra proprio attraverso un fulmine, quindi cavalca questo fulmine e arriva sulla terra. Arriva in un momento particolare. Scelgono proprio Samsa come messaggero, diciamo, sulla terra, quindi i due si incontrano quasi subito. Prima viene descritto tutto il cielo, diciamo, il cielo dei finnici con tutti questi dèi e la riunione che si svolge. E poi viene descritto invece la terra e come vive Sam Saronkainen. Ora, i due si incontrano in un momento particolare, proprio quando Samsa ha deciso di fare un rito sacrificale agli dèi. Perché? Perché lui in realtà professa questa fede, questa antica fede pagana, e non il cristianesimo, che invece è diffuso in tutta la Finlandia. È la religione preponderante. Ora, Samsa fa questo rituale e gli compare il figlio del Dio del Tuono. All'inizio non capisce, non riesce ad associare le cose. Quando però capisce che è effettivamente il figlio del Dio del Tuono, proprio perché lui credeva in questi dèi e non nel cristianesimo, avviene una cosa particolare. I due si scambiano il corpo. Quindi Sansa finisce nel corpo del figlio del Dio del Tuono. Quindi questo bellissimo corpo possente da Dio. Mentre Rutia, con la sua personalità scoppiettante, finisce in un corpo brutto. Cioè, non saprei come dirvelo. Dovete immaginarvi un uomo normale, sulla cinquantina, ok? Non particolarmente affascinante. E da qui inizia tutta la storia. Quindi Rutia decide di, che è nei panni di Samsa, decide di riportare la fede ancestrale attraverso questo personaggio, quindi Sansa Ronkainen, a tutti i finici. E da qui parte tutta la storia, che si svilupperà in mille peripezie, soprattutto perché tutti vedono Sansa Ronkainen come fisico, ma la personalità è completamente diversa, perché c'è all'interno la personalità di Rutia. E da una parte gli risolverà un sacco di problemi questa cosa a Samsa, dall'altra invece gliene creerà moltissimi, soltanto che alla fine del libro Rutia riuscirà nel suo intento, quindi a riportare questa fede neo-ancestrale, viene chiamata, su tutta la terra dei finici. E quindi può ritornare in cielo. Ora, la storia di per sé è comica, fa ridere, cioè credetemi, fa veramente ridere. Come viene trattata la tematica della religione, invece, è trattata in modo molto intelligente, molto sottile, perché? Perché nonostante ci siano questi continui paragoni tra una religione che noi consideriamo pagana e il cristianesimo. Il confine, a dire la verità, è molto sottile, cioè nel senso che vediamo Rutia che studia la Bibbia e lo studia perché sa benissimo che il figlio di Dio è stato mandato sulla terra e non ha fatto una bella fine. Quindi lui prende delle accortezze, diciamo, per non finire in croce e soprattutto fa anche delle, chiamiamole battute, ma non sfocia nella blasfemia, credetemi, sul fatto che Gesù è finito in croce ma adesso non c'è più la morte per crocifissione e quindi a lui dovrebbero o impiccarlo o fucilarlo nel caso dovesse andare male e lui spera che questa cosa non accada. Comunque ci sono tutti questi continui riferimenti al cristianesimo e a questa religione appunto considerata da noi pagana e si vede come in realtà le due religioni sotto tanti punti collimano, non sono così diverse. E anche questo riportare una fede pagana, io continuo a fare così perché per noi è pagana appunto, per noi, diciamo, cristiani, cattolici o altre religioni monoteiste. Non voglio entrare nella sfera religiosa di ognuno di noi perché ognuno si vede la fede come vuole o non se la vive, quindi dovete prenderlo come una recensione di un libro, mi raccomando. E stavo dicendo che appunto c'è la particolarità di riportare questa religione pagana, viene chiamata neo-ancentrale, ai giorni nostri. Perché ovviamente noi ci immaginiamo sempre, se ce lo immaginiamo, che quando Gesù Cristo scese in terra è avvenuto duemila anni fa. Quindi tutto completamente diverso. E invece qui abbiamo addirittura, viene presa in considerazione l'idea di fare della pubblicità, quindi proprio cartelloni pubblicitari, col fatto che il figlio del Dio del Tuono fosse arrivato in terra con tanto di pubblicità televisiva, radiofonica, completamente diverso. C'è proprio un'altra cosa, un altro mondo, come se adesso dovesse arrivare qualcuno nel 2021 e dire che è il figlio di Dio. Cioè, tra virgolette, chi ci crederebbe, no? E invece lo scrittore ha sviluppato questa cosa facendo piano piano credere a tutti che lui sia effettivamente il Dio del Tuono. E quindi questa nuova religione attecchisce in Finlandia e tutti poi la professeranno al posto del cristianesimo. Cioè, è una cosa, pensateci, geniale. Cioè, è una cosa molto difficile come idea di base. perché se io penso, appunto, che adesso qualcuno venisse qua e mi dicesse che sono il figlio di Dio, non so come la prenderei esattamente. Invece, lo scrittore, invece di far finire la storia malamente, quindi che Rutia non riesce nel suo intento, perché qui è un dato di fatto che lui sia il figlio di Dio, perché noi vediamo anche tutto quello che si sviluppa in cielo, lui riesce invece nel suo intento e quindi a far credere di nuovo tutti i finici in questa religione ancestrale. Allora, il libro, credetemi, comico, leggetelo, fa ridere, ma anche bellissimo. Ci sono dei dettagli, delle piccolezze che non sono poi così piccolezze che fanno riflettere effettivamente su quella che poi è la fede di ognuno di noi o la non-fede, o insomma. Comunque qualcosa di estremamente personale che qui viene portato a livello di una popolazione intera. Io ve lo consiglio, cioè mi sono insegnato un sacco di cose anche comiche oppure su come effettivamente viene descritto questo paradiso barra inferno dei finnici, quindi con questo fiume orna che è un fiume infuocato che porta le anime dei dannati anche lì non tanto diverso dal nostro inferno. Io ve lo straconsiglio, cioè secondo me è una lettura molto divertente, molto bella, che fa anche riflettere, quindi per questo non vedo l'ora di andare a leggere anche gli altri suoi libri. Ora, io spero di essermi spiegata perché veramente non voglio sfociare in polemiche religiose, sono qui per recensire un libro che a me è piaciuto molto, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete letto questo libro o se avete letto qualche altro libro dello stesso autore fatemelo sapere nei commenti, vi leggo sempre, lo sapete. Come sempre se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi se volete farlo in modo attivo c'è un link di regalarmi un libro. Vi lascio come sempre nelle mie info box i miei profili di Instagram, Vinted e TikTok e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!